Domani la parrocchia Santa Gemma di Mazzara celebra il giubileo del papà. Cosa è previsto? È inserito nel calendario del cinquantesimo della parrocchia e quindi in occasione della festa di San Giuseppe vogliamo celebrare questa giornata dedicandola ai papà. Di solito si festeggia molto la mamma, si festeggiano altre situazioni, i papà sono sempre, per motivi di lavoro o peraltro, un po' trascurate. Allora noi come parrocchia abbiamo pensato di metterli al centro della nostra attenzione e vogliamo davvero celebrare, facendo il passaggio dalla Porta Santa per gli ultimi giorni, perché come sapete finirà il 25 marzo, questa possibilità dell'indulgenza plenaria e quindi poi celebreremo l'eocarestia, benediremo il pane e quindi faremo veramente memoria di un grande papà che aiuti a tutti i papà a vivere davvero nella grazia del Signore. Quali sono gli orari degli eventi? Sarà tutto alle ore 21 perché diamo la possibilità a coloro che lavorano di poter essere liberi, quindi invitiamo le famiglie a partecipare a questa eocarestia alle ore 21 di sera.